Castellitto, solo nello spettacolo perché non si può lavorare? Ma i set funzionano, io sto girando un film, quindi le sale sono chiuse e per me... Le chiusero mi sembra quando fecero un contagiato in quattro mesi ovviamente per non far circolare le persone, però mi pare che sono numeri che si possono conciliare benissimo con un'idea di riapertura assolutamente. Per me sì, entro fine maggio non dovrebbero riaprire solo le sale, bisognerebbe fare di tutto per riaprire quanta più taglia possibile, anche perché oramai ci sta un pensiero diffuso nelle persone che rischia di essere molto pericoloso. Io ho passato una grossa percentuale della mia vita nei ristoranti e molti quando camminano nei loro ristoranti vuoti dicono ma di fronte a un'attività di una vita che evapora, ma tutto sommato cosa me ne frega più del virus? Quindi questo è un pensiero sempre più comune che...